Foglie secche come se fosse ottobre ma non è la stagione, è la siccità ad aver stressato le piante, alcune ormai secche, altre che anticipano il momento del riposo vegetativo appunto autunnale, una strategia per sopravvivere. Riccardo Milletti. Se ne sono accorti in molti negli angoli più disparati dell'Umbria, i nostri boschi si presentano con colori tendenti al marrone o al giallo tipici dell'autunno ma del tutto inusuali in estate. La causa ovviamente è il prolungato periodo di stress idrico che le piante stanno sopportando. L'acqua manca da troppo tempo e allora scatta il cosiddetto riposo vegetativo, un meccanismo di autodifesa delle piante. Il fenomeno sta riguardando soprattutto la zona dell'Orvietano alla quale si riferiscono le immagini ma anche lo spoletino e il comprensorio del Trasimeno. È stata registrata una situazione analoga per esempio nel 2003, un'altra pesantissima nel 2012, senza peraltro che poi ci siano stati particolari episodi degenerativi della situazione forestale. Quindi è la situazione che oggi registriamo, una situazione che riguarda un sistema di autodifesa da parte delle piante forestali che entrano in uno stato di quiescenza. Al momento la sopravvivenza dei boschi non è a rischio ma le prime ripercussioni di questa stagione si potranno toccare con mano nella raccolta dei funghi e dei tartufi che sarà inevitabilmente compromessa.